Torino fu fondata dai Romani. Ufficialmente la storia della città piemontese inizia nel 27 a.C., quando i Romani la fondarono e civilizzarono con il nome di Augusta Torinorum. La colonia romana doveva essere l'avamposto romano verso le Gallie e centro delle principali vie di comunicazioni dell'epoca verso il mondo transalpino. In realtà, già nel 58 a.C., l'allora proconsole Giulio Cesare, fece insediare nell'area un accampamento militare come posizione strategica per la via delle Gallie, per poi ampliarlo come colonia. La città venne disegnata con il tradizionale impianto ortogonale delle colonie romane e nel I secolo d.C. fu edificata di una cinta muraria. La leggenda narra che già nel III secolo a.C., nella stessa area, in alcuni villaggi vivesse il popolo agricoltore dei Taurini, distrutto poi dal condottiero cartaginese Annibale nel suo attacco a Roma attraverso le Alpi.